In studio, Catiuscia Carpentieri. Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione su video mediterraneo. In apertura parliamo, così come avete ascoltato dalla nostra prima pagina, parlando della nave Ocean Viking che domani approderà alle 8 del mattino al porto di Pozzallo. Dopo 11 giorni ha trovato dunque un porto sicuro. L'ok della tracque è avvenuto nel pomeriggio da parte del Viminale. Tutti i dettagli in questo servizio. Aproderà domani mattina alle 8 al porto di Pozzallo la Ocean Viking, nave norvegese di ONG francese con a bordo 104 migranti salvati lo scorso 18 ottobre a largo del canale di Sicilia. L'ok è arrivato dal Viminale che ha autorizzato lo sbarco dopo 11 giorni di attesa per l'assegnazione di un porto. Si è conclusa infatti nel pomeriggio la procedura di ricollocazione dei migranti soccorsi in base al preaccordo raggiunto nel corso del vertice di Malta. Francia e Germania in particolare ne accoglieranno 70. Intanto il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna è pronto ad accogliere la nave e i migranti ma non nasconde i dubbi sul tempo trascorso in mare prima dell'ok che da parte del Viminale. Si è aspettato troppo, ha detto Roberto Ammatuna. Non conosco le motivazioni ma si parla di ricollocazioni internazionali. Mi sembra comunque un tempo eccessivo. Si è parlato di svolta ma deve essere una svolta non solo formale anche sostanziale. Non si può tenere una nave per 11 giorni ferma in mare, spiega ancora il primo cittadino. Io stimo molto il ministro dell'interno, la Morgese, vorrei che fosse chiaro. È un grande tecnico e con la burocrazia del Viminale ho sempre ottimi rapporti, però qualcosa deve essere messo a punto. Chiedo più coinvolgimento del territorio, ha concluso Ammatuna. Dopo giorni bloccati in mare, commenta Michael Farc, capo missione di Medici Senza Frontiere, che gestisce la nave insieme a SOS Mediterranea e con alle spalle le orribili condizioni sopportate in Libia e lungo tutto il loro viaggio, finalmente i migranti potranno essere portati al sicuro. Questi prolungati inumani blocchi non devono continuare, ha concluso Farc. E continuiamo a parlare di cronaca. Si scaglia contro i poliziotti rifiutandosi di eseguire la verifica del tasso alcolemico. È accaduto a Comiso, guidava ubriaco un 37enne di Vittoria che è stato arrestato dalla Polizia per resistenza pubblico ufficiale. È stato arrestato in flagranza un 37enne di Vittoria che a seguito di un controllo della Polizia ha aggredito e minacciato gli agenti. L'episodio si è verificato a Comiso, intorno alle due della notte tra giovedì e venerdì scorso. Durante un posto di blocco, all'alt della Polizia, il conducente, anziché arrestare la marcia, ha accelerato per sottrarsi al controllo, ma è stato raggiunto e bloccato dopo alcune centinaia di metri dall'equipaggio della volante. L'uomo già noto alle forze dell'ordine era in preda all'alcol, aveva difficoltà nei movimenti. Nella sua autovettura i poliziotti hanno rinvenuto una bottiglia di superalcolico. Il 37enne si rifiutava di eseguire la verifica del tasso alcolemico e iniziava ad assumere un comportamento aggressivo e minatorio nei confronti degli agenti, tanto da colpire uno di loro che tentava di contenerlo e ricondurlo alla ragione. Al poliziotto colpito sono state diagnosticate delle abrasioni alcoli agli arti superiori e giudicati guaribili in quattro giorni. Il vittoriese, che durante il tragitto verso il commissariato continuava ad inveire e minacciare gli agenti, è stato tratto in arresto per resistenza pubblico ufficiale ed è ferito all'autorità giudiziaria per il reato di rifiuto di sottoposizione agli accertamenti strumentali dello Stato di ebrezza. Compiute tutte le attività di rito, l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, su disposizione del pubblico ministero. E adesso parliamo ancora del nubifragio che si è abbattuto venerdì scorso anche in provincia di Ragusa. I comuni di Pozzallo e Modica, insieme ad Ispiche e Scicli, hanno dichiarato lo stato di calamità a causa dei danni causati dal maltempo. Domani ci sarà un vertice a Palermo. Intanto il governatore Nello Musumeci ha annunciato alla stampa durante l'incontro a Palazzo Bruno che si è tenuto sabato scorso ad Ispica che la regione chiederà lo stato di calamità. Tutti i dettagli. Approvata dalla giunta di Pozzallo la dichiarazione dello stato di calamità per la richiesta di risarcimento dei danni causati dal maltempo di venerdì. Come è noto, le abbondanti piogge, cadute in un solo giorno, corrispondono ad un terzo delle piogge che cadono tutto l'anno, ha dichiarato il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna. Hanno messo a dura prova la tenuta di tutte le strutture pubbliche e private della città che complessivamente ha retto in modo accettabile per il grande impegno profuso dal personale di protezione civile, dagli operai, dai tecnici del comune, dai vigili del fuoco, dai vigili urbani, dai carabinieri e per la prima volta anche il personale della Capitaneria di Porto è stato coinvolto nelle operazioni. Le spese dei danni, riporta la nota, saranno quantificate successivamente, dopo un attento esame di tutte le stanze dei cittadini colpiti e le relazioni che i tecnici stanno già completando. Anche la giunta comunale di Modica si è riunita ieri pomeriggio e ha formalizzato con una delibera la richiesta al Consiglio dei Ministri di deliberare lo stato di emergenza e al Presidente della Regione la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità. I danni al patrimonio pubblico, riporta la nota del Comune, sono da ascriversi alle infrastrutture viarie che hanno richiesto l'adozione di provvedimenti interdittivi a causa dell'incommente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e alla pubblica incolumità. I danni al patrimonio privato si riferiscono essenzialmente a danneggiamenti a carico di immobili, pesantemente coinvolti da allagamenti da causa alluvionali, detriti e fango. Il comparto agricolo e zootecnico, conclude la nota, risulta particolarmente gravato dalle ripercussioni economiche per la compromissione, oltre che delle strutture aziendali, dalla completa perdita di raccolti, scorte e quant'altro direttamente connesso alla produzione agricola. Anche i comuni di Ispica e Scicli hanno dichiarato lo stato di calamità. Intanto questi provvedimenti precedono la riunione di domani, indetta dalla Giunta regionale per chiedere lo stato di calamità. Lo stesso Presidente della Regione, Nello Musumeci, aveva annunciato l'incontro di domani in occasione del vertice a Palazzo Bruna Ispica, dopo il nubifraggio che si è abbattuto sulla città. Abbiamo raccontato ieri dei danni che hanno coinvolto il comune di Ispica a seguito dell'ultimo nubifraggio, ma ad essere colpito è stato anche il comune di Scicli, da Marina di Modica a Cavadaliga. Ci sono ancora detriti e fango. Le frazioni balneari sono state messe in ginocchio dal maltempo. Sul posto per noi, Marco Scavino. Vi abbiamo raccontato in questi giorni di come il territorio ispicese sia stato messo a dura prova nelle ore del nubifraggio, scene che abbiamo definito dell'apocalisse. Ma oltre il territorio di Ispica vi abbiamo anche raccontato del territorio di Pozzallo, del territorio di Marina di Modica. Ma c'è anche il territorio di Scicli, tra questi ad aver riportato ingenti danni a seguito del nubifraggio, ovviamente non paragonabili a quanto accaduto ad Ispica. Ci troviamo a San Pieri. Guardate in che condizioni versa la nota Pineta. Questa è la Pineta di San Pieri. Siamo proprio a ridosso della strada provinciale, la conosciamo un po' tutti. Là insista ad esempio la pista ciclabile. È tutto allagato, lo potete notare. Ecco, guardate, proviamo ad avvicinarci. Da qui in poi inizia l'acqua, immaginate. Quindi si parla ad occhio di circa 10-12 centimetri di acqua al di fuori del suolo. Ci troviamo in via Isaia, a Cavadaliga e le vie Limitrofe che si presentano ancora oggi come una vera e propria spiaggia. Guardate, la sabbia ha invaso letteralmente la strada lasciando diversi centimetri. La sabbia adesso si sostituisce infatti all'asfalto. Guardate la forza dell'acqua e del fango a che cosa hanno portato. Ancora qui è possibile vedere gli accumuli di sabbia che quella notte si sono depositati qui in via Isaia e Limitrofe a Cavadaliga. L'acqua e il fango provenivano a monte dalla parte alta di Cavadaliga e volevano appunto raggiungere il mare. Hanno terminato la corsa proprio in prossimità della strada provinciale che è stata ripulita proprio per consentire al traffico veicolare di poter transitare quella infatti è il Viale della Pace che poi dà sulla strada provinciale. A proposito di sicurezza stradale, a presentarsi pericolosa è anche la strada provinciale 65, la strada che collega Donna Lucata a San Pieri e che poi porta a Pozzallo. Queste sono le condizioni in cui versa all'altezza di Contrada, costa di carro. Ci troviamo proprio a pochissimi chilometri dall'ingresso di San Pieri. Potete notare che c'è del pietrisco a terra, c'è della pietra che rende davvero pericolosa la strada. Stessa situazione a Marina di Modica dove ancora si lavora per tornare alla normalità in Corso Mediterraneo che è tuttora chiuso al traffico. Ci troviamo nel tratto finale di Corso Mediterraneo che poi coincide con il primo ingresso della frazione rivierasca di Modica. Guardate, ad esempio, questo cancello è stato portato addirittura ad aprirsi dalla forza dell'acqua, è stato sfondato, oseremmo dire, dall'acqua. Ma anche girando da questa parte, dalla parte proprio opposta, si può notare come diversi muri di cinta siano crollati per la forza dell'acqua e del fango. Ve ne avevamo già dato notizia nelle prime ore successive al nubifraggio. Questa però è la condizione attuale di Marina di Modica che insieme alle altre sorelle, sia dalla parte di Scicli che dalla parte di Pozzallo e Ispica, stanno iniziando pian piano a tornare alla normalità. E la Presidente della Commissione Affari Sociali, Maria Lucia Lorefici, il segretario della Presidenza del Senato, Pino Pisani, e la deputata Lars Stefania Campo hanno inviato una nota al Presidente della Regione, Nello Musumeci. Abbiamo scritto al Governatore, dichiarano i parlamentari del Movimento 5 Stelle, chiedendogli di prendere in seria considerazione la possibilità di andare incontro alle difficoltà degli imprenditori agricoli, le cui aziende hanno subito considerevoli danni in seguito alla bomba d'acqua dello scorso 25 ottobre, prevedendo l'esenzione dal pagamento dei ruoli emessi dal Consorzio di Bonifica o comunque una netta riduzione degli stessi. La Sicilia sud-orientale è stata fortemente provata dall'alluvione di pochi giorni fa, scrivono i deputati grillini. Fiumi straripati e voragini hanno messo a rischio la vita di moltissimi cittadini. E cambiamo decisamente argomento, continua la protesta dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate per la carenza di personale. Questa mattina sit-in davanti la sede di Ragusa. Tornano a protestare i lavoratori dell'Agenzia delle Entrate. Oggi un'assemblea all'Agenzia di Ragusa, hanno partecipato tutti i dipendenti, sono tornati a chiedere il potenziamento del personale. Un personale che deve espletare tanti servizi, deve erogare tanti servizi e il numero attuale non rispecchia il reale fabbisogno della domanda. Proprio per questo l'Agenzia delle Entrate di Ragusa è tornata a dire basta. Il fatto che anche Roma ha seguito la vicenda ed è attenzionata Ragusa a livello nazionale per noi è un segnale molto positivo. Chiaro che noi non ci fermeremo perché abbiamo necessità e bisogno di nuova linfa per risolvere le problematiche che devono dare delle risposte certe e concrete alla cittadinanza e alla collettività. Si è puntato di più sulla quantità che sulla qualità hanno detto i sindacati. Questa situazione chiaramente nel tempo è stata messa, cioè degenerata in quanto il personale si è ridotto al 50% negli ultimi anni e i carichi di lavoro assegnati purtroppo rimangono invariati. Per questo motivo stiamo cercando di, prima abbiamo coinvolto, ci siamo coinvolti all'interno degli uffici, oggi usciamo fuori perché la gente deve parlare anche con noi per cercare e per capire quali sono effettivamente i problemi che non sempre sono dovuti a negligenza dei dipendenti, anzi. Con umiltà e abnegazione i lavoratori continuano ad espletare tutti i servizi, anche se con tantissime difficoltà. C'è bisogno che si facciano i concorsi e che quindi vengano nuove forze. La provincia di Ragusa è poi quella più carente per quanto riguarda il personale. Si dice tanto di lotta all'evasione, ma la lotta all'evasione non si può fare per esempio avendo un'area controllo persone fisiche e denti non commerciali con cinque persone che si devono occupare di tutta la provincia. Per cui speriamo che a livello nazionale questa nostra protesta che parte proprio dal profondo sud della Sicilia, dalla provincia di Ragusa, possa trovare accoglimento nelle stanze di Roma e che quindi ci possano mandare del personale. Ieri abbiamo fatto il sit-in a Vittoria, il front office era pieno di persone perché il personale è insufficiente alle richieste che vengono dall'esterno. Quindi lotta all'evasione e servizi alle persone. A Catania protestano i sindacati degli inquilini etnè insieme ai cittadini che aspettano da tempo una casa e che vedono nel palazzo di cemento di Librino una possibilità concreta per avere degli alloggi. A rispondere loro è l'assessore ai servizi sociali Giuseppe Lombardo. Non nuovo cemento per l'abitare pubblico, ma saggio utilizzo e l'esistente, evitando così le formule ghetto. È lo slogan che hanno utilizzato questa mattina i sindacati degli inquilini che hanno protestato davanti la sede all'assessorato comunale ai servizi sociali in via D'USMET. I cittadini chiedono chiarezza sui ritardi ai lavori dell'ex palazzo di cemento, sull'agenzia della locazione e su altre opportunità a favore del diritto alla casa, che rischiano di non essere adeguatamente coinvolte dalle istituzioni locali. Noi vogliamo risposte di questi almeno 96 alloggi che da molto tempo l'amministrazione ci diceva che erano pronti dicembre 2018, giugno 2019. Siamo quasi a novembre ma ancora non se ne parla. La ditta lavora un tantino a rilento e questa consegna viene sempre ritardata e le persone aspettano da oltre dieci anni questo alloggio. Questa è la replica dell'amministrazione comunale. Gli alloggi sono quelli dell'ex palazzo di cemento, 96 alloggi che 96 famiglie attendono da tempo. Noi abbiamo espletato come ufficio case tutto quello che era la procedura e quindi tutto quello che era il percorso previsto dalla legge per la compilazione delle gradatorie. Poi c'è un fatto di ordine diverso che riguarda appunto i lavori pubblici, e cioè i lavori che l'impresa giudicataria ha dovuto svolgere su questi appartamenti che mi dicono dai lavori pubblici, quindi che non è certamente, sapete benissimo, il mio assessorato, mi dicono essere indirittura di arrivo. I ritardi sono addebitabili, mi dicono sempre dai lavori pubblici, a una situazione di difficoltà dell'impresa giudicataria perché non ha ricevuto in tempo quelle che sono le somme previste dal Ministero Economia e Finanza, cioè dal MEF. E' un momento di grande soddisfazione e collaborazione politica, così ha dichiarato il deputato regionale Orazio Ragusa dopo la riunione che si è tenuta a Palermo questa mattina per la messa in sicurezza dell'ex Fornace Penna. All'incontro avvenuto alla presenza del Presidente nell'Omusumeci, hanno partecipato il Sindaco di Scicli Enzo Giannone e il suo Presidente di Ragusa Giorgio Battaglia. La Regione ha detto l'onorevole Ragusa, ha manifestato l'interesse per acquisire il monumento di archeologia industriale e patrimonio pubblico. Solo in questo modo si potranno attuare tutte le misure per la messa in sicurezza dell'ex Fornace Penna, attualmente di proprietà di 30 privati. Il prossimo passo sarà la convocazione in un'altra riunione a Palermo di tutti gli attori interessati. Il Sindaco Giannone scriverà una lettera di intenti rispetto alle proposte del Presidente Musumeci in merito all'acquisizione del bene, se giungere alla procedura dell'esproprio o seguire altre strade. L'importante, conclude Ragusa, è non perdere ulteriore tempo e attuare tutte le misure al fine di salvaguardare al più presto la struttura. A Ragusa il Movimento 5 Stelle si scaglia contro l'amministrazione comunale. Il Comune avrebbe inviato a molti cittadini, attraverso atti giudiziari, un sollecito di pagamento e l'emissione di sanzioni per omesso o parziale versamento tari. Tutto legittimo, dicono, se non fosse che il sollecito di pagamento deve essere preceduto da una richiesta specifica. Il Comune di Ragusa rischia di vessare i cittadini per una vicenda dai contorni tutti da chiarire e secondo noi è una vessazione completamente errata. A dirlo è il Movimento 5 Stelle di Ragusa che in una nota chiede spiegazioni all'amministrazione dopo che a molti cittadini ragusani è stato recapitato un sollecito di pagamento e contestuale emissione di sanzioni per omesso o parziale versamento tari con riferimento agli anni 2014, 2015 e 2016. Procedura legittima, riporta la nota. Se non fosse che tale sollecito di pagamento, come tra l'altro segnalato pure dalla di Consum, dovrebbe essere preceduto da una richiesta per pagamenti omessi totalmente o parzialmente e che vi sia stato un mancato adempimento da parte del contribuente. Da quanto è stato possibile appurare, continua nei consiglieri pentastellati, risulta che i contribuenti, nella quasi totalità dei casi, abbiano rispettato le date di scadenza e abbiano versato il dovuto come richiesto dagli uffici preposti. Successivamente, inoltre, non avrebbero ricevuto alcuna comunicazione per integrare o saldare le somme già versate. Ecco perché riteniamo, e in questo siamo confortati anche dalla presa di posizione delle associazioni dei consumatori, che la richiesta di sollecito del pagamento del tributo, con addebito della sanzione amministrativa e degli interessi, sia del tutto illegittima, anche perché si fa riferimento a un tributo già versato, secondo le direttive degli uffici comunali, non risultando alcuna richiesta di integrazione. Di fatto, il Comune che dovrebbe aiutare il cittadino, fornendo chiarimenti e assistenza, si sta trasformando in una controparte fastidiosa, riporta ancora la nota. Chiediamo dunque che possa essere chiarita l'intricata vicenda, e che soprattutto non si continuino a vessare i cittadini utenti che hanno adempiuto ai loro obblighi. Ci fermiamo adesso, c'è la pubblicità a tra poco. Siamo arrivati a una nuova edizione di MTG. E adesso parliamo di sanità, di buona sanità. È arrivata una lettera di encomio al direttore generale dell'ASP di Ragusa, Angelo Alicuo, in merito all'ospedale Giovanni Paolo II. Una lettera inviata da un paziente che, appunto, in questi giorni è stato ricoverato al nosocomio ragusano. No, la lettera inizia, ho cercato la mala sanità, ma non l'ho trovata. Pregiatissimo direttore generale Angelo Alicuo, Giovanni Paolo II, non è solo Papa, e poi Papa Santo. Egli ha dato il nome e cognome alla rivoluzione sanitaria territoriale ragusana, che tanto bisogno aveva. Inizia così la lettera di un paziente ricoverato nel nosocomio ragusano e inviata al direttore generale. In qualche punto della mia lettera, scrive il paziente, sarò anche negativamente critico, ma non per disfare, ma per recuperare quei gap che ancora si verificano giornalmente e che hanno bisogno di una giusta organizzazione. I fatti a cui fa riferimento il paziente si sono verificati lo scorso 16 ottobre alle 9.30 del mattino, scrive, arrivo al triage, mi viene assegnato il codice giallo e dopo qualche minuto compatibilmente con la visita che era già in corso e con le risposte che il medico di turno doveva riferire ai precedenti avventori, vengo visitato dall'unico medico disponibile. Una visita cordiale, professionale e attenta valutazione del mio malessere, che ne ha individuato subito la causa. Antidolorifici per il caso subito ed anche prescrizione esamico richiesta di ecografia. I tempi però si allungano e l'orologio segna già le 13.00 ricevuti i referti, il medico ha una consolidata visione della patologia e chiede alla consulenza chirurgica che per assenza di medici disponibili, erano tutti in sala operatoria, arriva alle 15.00. Tempestiva richiesta di TAC, lettura del referto e invio al reparto. Gli uomini ci sono ed anche bravi, la struttura pure. Manca quella giusta organizzazione di rete per ridurre i tempi sull'indispensabile sinergia tra i settori. Anche nel reparto diagnostica ho trovato competenze e dialogo con un momento importantissimo di progevole chiarezza, professionista, paziente. Alle 16 arrivo nel reparto di chirurgia in cui trovo all'ingresso il medico che attende il mio arrivo dal pronto soccorso e mi informa, senza farti perdere la calma, che dovrei essere da lì a poco sottoposto ad un intervento chirurgico. Sala operatoria a ore 18.30 circa. Un'equipe di chirurghi diretti dal dottore Di Mauro, insieme al dottore Rosso, al dottore Ambrogio e al dottore Di Stefano, a cui va il mio ringraziamento particolare. Ma certamente anche agli assistenti di sala e poi a tutti gli altri uomini e donne, medici in reparto, infermieri. E per finire, non per ultimo, l'instancabile capo sala si sono impegnati per ritardare, probabilmente, il mio viaggio verso Giovanni Paolo II. L'altro, il santo. Sala rianimazione, ore 22. Che dire, anche qua, operatori professionali, competenti, scherzosi e allegri, ma composti, così come il luogo e il particolare momento richiede. La musica diventa poi una componente di eccellenza, che aiuta il corpo e la mente a rigenerarsi. Bravi. L'indomani mi sveglio nel reparto di chirurgia per la dovuta degenza e col passare dei giorni mi accorgo di quanta passione viene trasfusa giornalmente la qualificata compostezza degli operatori sanitari che attendono alle incombenze giornaliere. Veda, gentile direttore generale, continua il paziente, mi prometta però che si adopererà affinché quella sinergia di rete di cui parlavo prima diventi più celere e fattiva. Ah, dimenticavo, si legge nella lettera, nella sala d'attesa del pronto soccorso, chi ha la sventura di vedersi scaricare il cellulare non c'è una presa di corrente. Un paziente al pronto soccorso senza telefono è già morto in termini telefonici ed è morta anche la sua famiglia che aspetta da lui notizie. Un wifi gratuito però è importante e sarebbe auspicabile la sua installazione su tutta l'area della struttura. Questo è semplicemente il ringraziamento di un cittadino che finalmente riceve una sanità degna di essere chiamata tale, conclude così la lettera del paziente. E a Catania approda il progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare che permette ai cittadini di fare esami gratuiti utili alla propria salute. Il bus medico sosterrà in piazza Università dal 2 al 4 novembre. Dal 2 al 4 novembre torna a Catania il progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare CHAC Tour Banca del Cuore 2019 promosso alla Fondazione per il tuo cuore HCF Ollus dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospitalieri con il patrocino e la presidenza del Consiglio dei Ministri del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e di RAI Responsabilità Sociale e Feder Sanità ANCI. Promuovere la prevenzione significa dare la possibilità ai cittadini di conoscere in tempo se sono delle patologie. Pensate che le patologie cardiovascolari sono quelle che danno purtroppo la maggiore mortalità in Italia. Noi abbiamo scrinato a Garibaldi già 40.000 persone con questo progetto e parecchie di queste non sapevano di avere delle patologie. Quindi noi cerchiamo di arrivare ai cittadini con questo fattore di comunicazione che serve a dire che c'è la possibilità di essere visitati gratuitamente di avere fatto l'elettrocardiogramma, tutte le visite. Noi cerchiamo di arrivare anche attraverso le piazze. In questi tre giorni, dalle ore 9 alle ore 19, il track di Banca del Cuore si fermerà in piazza Università per offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporse uno screening cardiologico creduto. I primi segnali che una volta erano molto eclatanti, il dolore al petto, la difficoltà a respirare quando si fa uno sforzo, oggi sono molto sfumati e questo è molto pericoloso perché i soggetti minimizzano, hanno un po' scotomizzato la paura e quindi non vanno in ospedale, magari vanno a farsi misurare la pressione ma non vanno quando hanno un dolore importante. La prevenzione è il segnale più importante di venire dalla tavola perché la dieta mediterranea è fondamentale e tutti i soggetti dovrebbero fare uno screening, come lo facciamo in occasione di Banca del Cuore, non solo dell'elettrocardiogramma ma soprattutto con il prelievo di sangue anche da una goccia di sangue dal dito come facciamo sul track dei valori di glicemia e colesterolemia ma anche uricemia. Partecipare alle campagne di prevenzione è fondamentale, i cittadini siciliani lo stanno comprendendo, il dovere della Regione e del sistema sanitario è quello di farlo diffondere sempre di più. Si è svolta a Roma la seconda convention nazionale di poste italiane con i sindaci dei comuni italiani con popolazione sotto i 5.000 abitanti, tante le iniziative messe a disposizione di queste comunità per ridurre le distanze. Per noi a Roma l'inviata Sara Donzuso. Ci sono progetti mantenuti ma anche impegni da realizzare e l'amministratore delegato di poste italiane Matteo Delfante li enuncia uno per uno con la consapevolezza che verranno mantenuti. Partendo da un dato, nessun ufficio postale è stato chiuso, poste crea occupazione e pensa a nuove assunzioni. Tutti i dati emersi durante la convention romana con i sindaci di 5.000 comuni che sono arrivati da tutta Italia. Delfante ha ribadito come poste italiane sia l'azienda con una rete capillare che riesce a collegare il territorio alle istituzioni e ai servizi centrali del paese. Parole che sono state colte al Premier Giuseppe Conte intervenuto ai lavori e che ha sottolineato come non bisogna fare cassa sulle spalle dei comuni, soprattutto dei comuni più piccoli. La D di poste ha illustrato anche gli obiettivi del nuovo piano di poste italiane per i piccoli comuni che comprende tra l'altro l'avvio di programmi ed educazione finanziaria e digitale, posto gratuito ai comuni per i servizi di pagamento digitale, l'uso di mezzi green per il recapito della posta e poi dove è possibile l'abbattimento delle distanze. Ci sono dei temi chiaramente di struttura anche geografica, ci sono dei temi sui quali noi dobbiamo continuare a lavorare per dare sempre un miglior servizio ai cittadini. Sicuramente quando noi guardiamo i nostri indicatori di qualità ci sono delle aree dove possiamo continuare a fare meglio. Opzioni che vengono colte dai sindaci che hanno partecipato, molti anche quelli siciliani e della provincia di Catania e Ragusa. E' importante questa occasione perché pone all'attenzione del governo o degli altri livelli amministrativi le difficoltà dei piccoli comuni. I piccoli comuni, il mio è un piccolo comune montano, quindi ha una doppia difficoltà, vivono una condizione di estrema difficoltà economica, di infrastrutture di abbandono e quindi occorrono delle misure specifiche che aiutino i piccoli comuni. Se si riesce a capire finalmente che le risorse del paese sono distribuiti in tutto il territorio e in particolare il valore che hanno i piccoli comuni quale presidio dello Stato sul territorio certamente non ci può esimere dal valorizzare queste realtà. E chiudiamo con una notizia di Sport 2 su 2 nel campionato di Serie B per la Virtus Irene Ragusa che sabato scorso ha battuto la Rescifina Messina per 72-57. Ottima prova delle Biancoverdi. La cosa positiva come la prima partita a Catanzaro è stata data dall'atteggiamento, cosa sulla quale sto puntando molto, ha commentato il tecnico Ivan Baglieri. Abbiamo iniziato la partita benissimo, infatti siamo andati subito 8-0 e abbiamo continuato con il nostro modo di giocare, pressare e correre in contropiede. Nel terzo quarto le ragazze sono rientrate bene, ma poi c'è stato un piccolo calo alla fine del terzo quarto quando sono arrivate sul meno uno. Ovviamente abbiamo tanto da lavorare, adesso abbiamo un turno di riposo e poi giocheremo in casa contro Palermo. In queste due settimane cercheremo di lavorare per sistemare di più l'atteggiamento difensivo, ha dichiarato infine Baglieri. Concludiamo qui questa edizione di MTG, grazie per averci scelto e vi auguro una buona serata. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.